Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati affrontati temi importanti e trasversali, quali il contributo del settore privato, l'importanza di azzerare lo spreco alimentare e la priorità di avere sistemi alimentari locali che completino i sistemi alimentari globali. Anche in vista del vertice sui sistemi alimentari di New York continueremo a lavorare con questo approccio partecipativo, coinvolgendo tutti gli attori potenzialmente interessati per giungere al Palazzo di Vetro in settembre con impegni specifici del nostro Paese. Siamo orgogliosi di aver evidenziato la tematica della sicurezza alimentare durante la nostra Presidenza del G20, convocando proprio lo scorso 29 giugno la prima riunione congiunta di Ministri degli Esteri e dello Sviluppo nella storia del G20 e portando i ministri del G20 ad approvare la storica dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare. La dichiarazione di Matera, che si propone di guidare la risposta all'insicurezza alimentare nell'ambito della decada ed azione contro la fame,